allora questo col cappello è un magistrato che si chiama gerardo questo invece un ragazzo che sta studiando ingegneria civile all'università di cosenza che si chiama gino quello che sa con gino è un architetto ottorino m o l l o questo è il padre di gino sorvidente qui duccio e per associazione di idee mi viene in mente quello che abita sotto la sotto quei miei carissimi amici e non posso dire i nomi per la mia riservatezza allora questo invece è un carabiniere questo è un agente immobiliare quello invece il nonno di quella pazza insultante che sappiamo bene da e invece infine questo è gianfi ecco gianfi lo zio di quella pazza insultante junior questo invece gianni e gigio che sono i gemelli quella sinistra e gianni che alla c3 ai cross nuovo venditori di macchini questo invece un ufficio giudiziario questo invece è gigetto figlio di andrea e andrea figlio di mauro il nonno mauro il questo invece è artemio infine questo è l'avvocato carmelo trinci che somiglia a quella signora che abita vicino l'autostrada ma non posso dire la zona perché è molto riservata infine ecco cesare carminati cesarino che somiglia a quel mio amico e non posso fare nomi per la mia riservatezza con questo è tutto amici e amiche appuntamento alla prossima grazie